Non siamo noi che ci si devono andare a chiedere, lo devono fare da solo, senza bisogno di chiedere. Noi stiamo chiedendo dei diritti che abbiamo, il risparmio è tutelato dall'articolo 47 della Costituzione, perché non è stato tutelato? Spiegatemelo, sono loro che devono vigilare! Ladro, ladro! Allora, siamo qua perché naturalmente siamo dei truffati, è in dubbio questo, no? Ora, noi ci chiediamo, la Banca d'Italia, siamo venuti qui alla Banca d'Italia perché ci chiediamo, la Banca d'Italia è la Consob, erano a conoscenza già delle sofferenze di queste banche. Perché hanno autorizzato le missioni di obbligazioni subordinate? Per quale motivo? Quando a noi non c'è stato comunicato niente e non c'è stato detto che le banche erano a rischio? Grazie!